Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime Matioschi e sono qui quest'oggi per parlarvi della mia esperienza al 75esimo Festival del Cinema di Venezia. Grazie a Mastercard ho avuto il grande onore di assistere a una tavola rotonda sul futuro del nostro medium preferito, una masterclass a cui hanno partecipato tra i vari relatori due registi di secondaria importanza come Spike Lee e David Cronenberg. Sì, li ho visti davanti a me, ho fatto anche una foto con Spike Lee, gli ho stretto la mano e da quel momento non me la sono più lavata. Infatti comincio a vederla un po' deperita, ma potete darmi torto? Cronenberg invece non si è palesato dopo la conferenza, ma al suo posto è arrivata lei, Gloria Contreras, la protagonista di The Lady, di Lori del Santo, ovvero la mia serie preferita. Non potete immaginare la mia grande emozione dinanzi a questa diva del cinema internazionale. Comunque, fesserie a parte, direi che è duopo parlarvi degli argomenti discussi nella tavola rotonda. Non soltanto perché sono emersi spunti di discussione molto interessanti, ma anche perché l'intero evento si è svolto sotto l'emblema dell'hashtag Start Something Priceless, sentite che inglese magistrale. Un motto che mi sento di accogliere, di abbracciare, perché il mio intento quest'anno è stato proprio quello di iniziare un progetto impagabile, senza prezzo, grazie al vostro grande sostegno. Spero che il Matioski Show e Facce di Nerd siano diventati per voi degli eventi in qualche modo importanti, così come lo sono per me. Ma bando ai sentimentalismi, addentriamoci nel cuore del dibattito tra Spike Lee e David Cronenberg. L'oggetto del contendere? Beh, se si parla del futuro del cinema, è inevitabile inserire nell'equazione l'elemento Netflix, anche perché tra gli altri partecipanti all'evento figurava la costumista premio Oscar Sandy Powell, che sta lavorando a un certo film chiamato The Irishman di un certo Martin Scorsese. Produzione Netflix, appunto, visto che le grandi major hanno rifiutato il progetto e forse, forse ne abbiamo finalmente compreso il motivo. Pare che per larga parte della pellicola gli attori verranno ringiovaniti utilizzando make-up e CGI. Recentemente è capitato diverse volte in casa Marvel, ma qui stiamo parlando di sequenze intere, lunghe, diversi minuti, un rischio che Netflix ha deciso di correre e vedremo se pagherà. Anche Spike Lee è legato a doppio filo a Netflix, dato che ha realizzato la serie She's Got A Habit proprio per la famosa piattaforma streaming. Ciò nonostante non ritiene particolarmente incoraggiante la prospettiva di ridurre l'esperienza cinematografica al ristretto schermo di uno smartphone. Per Spike Lee la fruizione corretta di un film passa per forza di cose dalla sala cinematografica. Dinanzi agli strumenti tecnologici odierni che tendono ad isolarci quando invece dovrebbero metterci in contatto con il mondo, la visione di un lungometraggio in sala diventa quasi un atto sovversivo perché è un'esperienza condivisa, collettiva, sociale, irriproducibile in altri contesti. David Cronenberg invece si schiera sul versante opposto e lo fa in maniera molto radicale. Per lui il cinema inteso come edificio dove esperire lungometraggi non ha alcuna fascinazione. Quello che conta è il prodotto, il contenuto artistico e non il modo in cui se ne usufruisce, soprattutto se poi quel modo permette di accedere ai prodotti audiovisivi con più facilità. Se prima ad esempio per un ragazzo appassionato poteva essere difficile recuperare i grandi classici, adesso sono tutti a portata di mano con buona pace della decadenza dell'esperienza cinematografica in sala. Nel corso della storia dell'umanità sono decadute molte altre esperienze. Il teatro greco classico, ad esempio quello che si svolgeva negli anfiteatri legato a un sistema di valori sacro, rituale. Quello era il vero teatro. Quel tipo di esperienza però si è persa per sempre o meglio si è evoluta. Tutt'oggi abbiamo la possibilità di assistere a rappresentazioni teatrali, anche se in un contesto socioculturale profondamente e radicalmente diverso. E così continueremo a guardare film, anche se magari non ci ritroveremo più in una sala per farlo. Due opinioni nettamente contrapposte, direi, quella di Spike Lee e quella di David Cronenberg. Io personalmente mi ritrovo in una via di mezzo. Il modo migliore per usufruire di un film resta l'esperienza in sala, senza alcun dubbio, almeno per quanto mi riguarda. Ma non è l'unico modo. Quanti di noi possono dire di aver visto i capolavori di Hitchcock in un cinema? Eppure ciò non toglie che li abbiamo effettivamente visti in condizioni diverse da quelle che impone la cultura cinefila dogmatica, ma li abbiamo visti. La morte del cinema era già stata profetizzata quando le televisioni arrivarono nelle case. Poi il nemico sono diventati i videonoleggi e Netflix era questo in origine, guarda caso, un videonoleggio. Così, come ci sono sempre state pellicole destinate direttamente all'home video, adesso ci sono gli originali Netflix, che sono film a tutti gli effetti anche se per vederli basta uno smartphone. Sono dei film. Quello che conta, e qui sono d'accordo con Cronenberg, è il prodotto, non lo strumento. Però adesso voglio sapere cosa ne pensate voi. Dibattiamo nei commenti. Sono sicuro che nasceranno tante conversazioni interessanti perché l'argomento è hot, bollente, non in senso erotico, ma nel senso che è un argomento che riscalda gli animi. Quindi vi prego di essere civili e pacati nell'esposizione delle vostre argomentazioni. Mi raccomando, detto questo vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui. Vi invito a fare un giro nella descrizione del video per trovare tanti link utili e mi congedo da voi con un veneziano sbadoncio streghetta.